Simón, le partite che piacciono a te queste? Eh, niente, penso che è stata una bella partita, eravamo un po' giù, avevamo decaduto un po', però penso che alla fine se l'abbiamo fatta, abbiamo giocato come una grande squadra, e questo è lo più importante. Che soddisfazione ti ha dato il muro su Atanasievic alla fine del match? Eh, penso che non è perché sia Atanasievic, semplicemente perché è il momento della partita che fai al muro, penso che fare un muro a chiunque serve un bel muro, per questo è una cosa importante, penso che è stato un muro bello. Quindi in Coppa Italia la barba gialla, adesso per i play-off più niente? Eh, se arriviamo al finale ci penso a fare qualcosa.